Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voi non capite cosa vuol dire tutto questo e ogni giorno vengo affinché voi possiate comprendere la mia venuta. Solo così voi potete essere i miei apostoli. Figli miei, vi ringrazio che anche oggi avete scelto per Dio. Figli miei, non fatevi rubare la speranza. Quando vi sentite stanchi e affaticati è perché Lui, il nemico, agisce e questo non vi permette più di fare un cammino di santità. Pregate per coloro che vi sono accanto e non riescono a comprendere questa chiamata. Io come madre vi voglio aiutare affinché siate costante nella preghiera e nella testimonianza. Oggi più che mai il mondo ha bisogno di pace e voi, figli miei, che avete incontrato il Re della Pace, vi esorto a continuare questo cammino che Dio sta tracciando. Molti siete stati chiamati. Questa sera, radunati tutto intorno a me, siete come degli angeli e le preghiere che avete donato le porterò a mio figlio Gesù affinché Lui, il Re della Pace, le accolga. Pregate, 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 pregate per i pastori e pregate per le mie intenzioni. Vi ringrazio che avete risposto alla mia chiamata.